Il Museo Archeologico di Francavilla Fontana sarà tra i luoghi della cultura protagonisti delle Giornate Europee del Patrimonio. L'iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea è nata con lo scopo di far conoscere e promuovere i luoghi della cultura presenti sui territori. Le Giornate Europee del Patrimonio nella città dell'Imperiali avranno come filo conduttore il tema Intrecci di Cultura alla scoperta della civiltà messapica con una serie di visite guidate. Si tratterà di un viaggio che partirà dalla preistoria sino aggiungere alla formazione della città di Francavilla Fontana con un approfondimento sui messapi. Il tema Patrimonio in vita, proposto dalla Direzione Generale dei Musei, spiega l'assessore al patrimonio Eleonora Marinelli, ci sollecita a riflettere sulla centralità dei nostri luoghi della cultura a cominciare dal MAF. Grazie a questa iniziativa offriremo un percorso tematico che ci aiuterà a comprendere meglio la nostra storia ma soprattutto le testimonianze che abbiamo sul territorio e che meritano maggiore attenzione. Le sale espositive del MAF allestite al piano nobile di Castello Imperiale sono organizzate in ordine cronologico con un percorso che inizia con le fasi più antiche della storia dell'uomo in Puglia, prosegue con l'età lenistica e romana e si conclude con il racconto della nascita del borgo di Francavilla Fontana in età medievale e dei successivi sviluppi in età moderna quando il destino della città si incrocia con quello degli imperiali. Nelle sale presenti reperti archeologici provenienti da Francavilla Fontana, Celime Sapica, Mesagne e Brindisi. Il cammino nella storia del territorio è impreziosito da illustrazioni e ricostruzioni tridimensionali.